ehi il il perché il rinconi di un uomo e poi poteva il dono rullo che ti fai? che ti fai? mi chiede che il capello è che tu sei? che ti fai? ahahahahahahah cosa aspettare? eh tu mi aspettare? ahò Dario che è che è una cassaforta è una cassaforta è una cassaforta è una cassaforta è una cassaforta